Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio del Murder Mystery Oggi siamo qui per vedere se abbiamo ancora quella maledizione che ci faceva diventare sempre innocenti facendo qualche partitina Ah, nella prima partita vabbè si è sempre innocenti quindi va bene, ci sta che comunque stiamo innocenti Però io volevo vedere se magari nelle prossime partite potremmo trovare, cioè potremmo essere magari almeno detective assassini Ma non si può prendere questa spada che c'è qui? No vero? Ebbè, mi sembrava troppo semplice no? Adesso io direi di prendermi tutto l'oro che c'è e di arrivare a 10 Perché qui nell'Hypixel non è come nelle Fire Games che nelle Fire Games ne serve 6 Nelle Hypixel ne servono 10, 10 sono un bel po' quindi non credo neanche che riusciamo Però, 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 prima o poi ragazzi ce la fa... ah, ah, ma, ah, ok, abbiamo vinto 2, 1, innocente, no ragazzi questa cosa non è letteralmente possibile Qualcuno per favore mi può spiegare com'è possibile questa cosa? Per favore ragazzi, ve lo chiedo tantissimo Perché sono sempre innocenti, tipo mi sarà capitato di diventare Mordor oppure Detective Tipo, uno o due volte, ma, in tutto... ecco, sono morto Ma ragazzi non è possibile Guardiamo un attimino l'assassino L'assassino, boh, non so, ma ragazzi tutti sono assassini tranne io, eh Tutti ragazzi, proprio letteralmente tutti Va bene E' questa qua, e' questa qua Questa qui l'assassino, va bene Fa niente, fa niente, fa niente Andiamo a farci un'altra partitina Però questa la dobbiamo far bene, eh Non dobbiamo né morire E ne... e... e ne... morire, ok Non dobbiamo né morire e né morire Perché se moriamo poi dopo è brutto Allora, vediamo un pochino Innocente, si ragazzi, no, vabbè Ma non me lo aspettavo, proprio questa cosa Cavolo, veramente Non me lo aspettavo Ok, pensavo che fosse il pinguino L'assassino invece non è E' lì Ragazzi, ho visto uno con la spada Ah no, ma era il... ok, niente Ehm... Allora, vediamo un pochino se riesco a trovare un pochino di oro Però adesso ne ho trovato uno Ragazzi, non c'è proprio oro in giro, eh Questa cosa non mi piace Posso prendere l'arco da qui? No, vero? Detective Bow Made in... qualch'è Adesso, vediamo un pochino Oro in giro, buongiorno Oh, cavolo Mi dispiace, scusa Avevo pure una bella skin Voglio la tua skin Ragazzi Quella papera Così What? Ragazzi Infinity 0107 No, non sono io Ragazzi Sì, un'altra maledizione che ho io E' di farmi sparare dai detective Quando non sono l'assassino Ma... Ma passando ad altro Adesso saremo detective? No, ovviamente Ma era una domanda proprio normale Buongiorno Allora Vediamo un attimino se riusciamo A fare qualcosa Di sicuro ragazzi Una maledizione che è quella che Ci uccidono i cattivi lì Cioè i bravi I detective Ce l'abbiamo ancora Ce l'abbiamo ancora E su questo non ci piove Adesso Vediamo un attimino Abbiamo ancora però La maledizione di diventare murder Se Quando finisco il video Sono ancora Innocente Sì Se no Magari no Non lo so ragazzi Andiamo a vedere Ehm Io spero Sinceramente Che Finiscano queste maledizioni Ragazzi Cioè Non è possibile Che non so mai Ne murder Ne Ne detective Ma Ragazzi Sì Avete visto No Poi dopo ve lo rimetterò Cioè ve lo rimetterò Potete andare a vedere Un attimino più in là C'era qualcuno Che stava camminando Mi sa che aveva preso O la pozione di visibilità O è stato un bug Va bene Va bene Va bene Va bene Adesso Vediamo un attimino Cosa riusciamo a fare Di sicuro Non ci dobbiamo far uccidere Dall'assassino E neanche Soprattutto Neanche dal detective Perché se no Ragazzi Ehehe Poi lì È brutto Vediamo cosa riusciamo a fare Ragazzi Se mi metto qui Cosa succede Cosa succede ragazzi Ma Ma ragazzi Ma non succede niente Va bene Allora Me ne vado via Ragazzi Pensavo che succedesse qualcosa Ma invece Non è successo nulla Quindi mi va bene Adesso Vediamo un pochettino Andiamo A Vedere Se Riusciamo A trovare 10 d'oro Però Ragazzi Ma lo sapete Che mi sa Che l'assassino È FK Quindi credo Che sia questa qua Perché ragazzi Cioè Siamo in 12 Nessuno è morto E abbiamo vinto E chi era ragazzi No Non era quella Ragazzi Chi è chi era Più 5 karma No Perché io Più 5 karma Ragazzi Va bene Va bene Va bene Io ci credo Ci credo tantissimo Non so cosa sia successo Ragazzi Perché Boh Non so assolutamente cosa sia successo Non so neanche chi fosse Però va bene Ragazzi 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 Una maledizione C'è ancora Ma l'altra Maledizione Si è spaccata Ragazzi Abbiamo fatto finire La maledizione Ragazzi Non abbiamo più La maledizione Possiamo essere Morder Oh mio dio Sì Che bello Che cavolo Ragazzi Cioè Non eravamo mai Morder Adesso ragazzi La prima volta che sono Morder Muoio Scommettiamo Non riesco neanche Di ucciderne uno E muoio Quanto ci scommetto Ragazzi Ok No Uno è andato Uno l'ho ucciso Non ho mai Quasi mai fatto Il Morder Quindi ragazzi Veramente Non sono molto bravo Muori Tre persone morte Ah cavolo Questo qui mi ha visto Ragazzi Sono una bravissima Persona Io Ok Quello che mi aveva visto È morto Tu No Tu sei Una brava persona Devo cercare Di non farmi Assolutamente Vedere Dalle persone Che io uccido Le altre persone Perché se mi faccio Vedere Ragazzi Poi dopo È brutta Ah c'è qualcuno Che già sta sospettando Di me Ma va bene Non facciamoci Vedere troppo Ok Se non ci facciamo Vedere troppo È meglio per noi Ok Adesso Vediamo un attimino Ok No Niente Allora Vediamo un attimino Qui Infinity No Vabbè Però ragazzi Cioè a me non piacciono Le persone Che comunque Aspetta però Ragazzi Una cosa Le persone Non possono Vedere il mio nome Perché ragazzi Se io vi faccio vedere Non possono Vedere il mio nome Quindi È ancora meglio Per me Comunque Ho fatto 7 kill Ragazzi Mi piace Non me lo aspettavo Non me lo aspettavo Di far 7 kill Perché È una delle poche volte Che sono Mordere Quindi veramente Oh mio dio Però va bene Fa niente Ma ragazzi Vedete che Continuano a fare Tutti Infinity 001 Ragazzi 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 Non ci credo Potevo uccidere Era vicinissimo Ragazzi Ero letteralmente Vicino Va bene Però Ragazzi Ci stavo riuscendo Devo dire Che ci stavo riuscendo Ok Allora Vediamo Un attimino Di sicuro Mordere Non siamo Ecco Neanche Detective Ma va bene Ci sta Comunque Siamo appena Siamo appena Stati Detective Cioè Siamo appena stati Mordere Quindi Beh Devo dire Che va bene Ci sta E Sono stati Un pochino Sfortunatelli Lì Però Va bene Fa niente Non ci preoccupiamo Questa è l'assassino Ragazzi E no Ok Mystery Potion Vediamo un po' Con la sfortuna Che ho Ragazzi Sono invisibile Nessuno mi vede Ma No Ah La resistenza Ok C'era scritto Invisibility Va bene Fa niente Non ci preoccupiamo Facciamo un pochino Di parkour Che magari Se l'assassino Mi sta seguendo Muore magari Da parkour E ragazzi Ma lo sapete Che Ma cosa Ragazzi Ehm Avete visto Pure voi C'erano Due di queste skin Uguali Che stavano Camminando E ragazzi Io avevo ragione Di chi era L'assassino Quella all'inizio Che avevo detto Ragazzi Ma io non ci credo Comunque ragazzi Guardate Quanto è grande Quanto è grande Quanto è grande Sta mappa Oh mio dio Quanto cavolo è grande Sta mappa Da qui si può entrare Ah no Vabbè ma ragazzi Ma è troppo grande Comunque Secondo me È una mappa Gigantesca Secondo me Per il murder Eh però Chi lo sa Chi lo sa Magari Sembra grande Ma poi alcuni posti Non si può andare Ah ok Siamo già Iniziati Innocenti Ok io direi di fare Un bel bagnetto Sapete No Ok va bene Allora Ehm Vediamo un attimino Tra poco L'assassino Avrà la spada E questo qui Non è Vediamo un attimino Allora Qui non c'è nulla Non c'è nulla E non c'è nulla Ok Prendiamoci lo Ehm Buongiorno Ah ah Sei morto Ok Non è ucciso Ah no cavolo Non aveva già ucciso 4 di persone Ma Ma ragazzi No che forza No ragazzi Ci voglio andare Avete visto Avete visto C'erano delle scale Con sopra l'acqua E per scendere Bisognava nuotare No ragazzi Volevo farlo No ragazzi Ci volevo per forza andare Va bene Un'altra volta Innocenti Beh L'abbiamo spezzata La maledizione Su questo Siamo sicuri Però ovviamente Siamo appena stati Adesso lo uccido Aspetta Resto qui E poi 3 2 1 Ti uccido Ti uccido Ti uccido Sto scherzando Sto scherzando Però va bene Adesso Di sicuro Adesso diranno Che sono io L'assassino Ragazzi Però vedo Che comunque I detective Cioè mi hanno ucciso Una volta Ma E basta Solamente una volta Quindi Boh Non lo so Magari Hanno smesso pure Ha smesso pure Questa maledizione Non lo so Ragazzi Di sicuro Non mi fa più scendere Ragazzi Ragazzi Non mi fa più scendere Ehm Ragazzi Oh mio dio Ragazzi C'è Robrain Che cavolo E quella cosa Ragazzi Scherzo shift E non mi fa più scendere Ehm Questa potrebbe essere Un piccolo problema Però va bene Restiamo qui Che prima o poi Faremo qualcosa You win Ok Va bene Ehm Sì Ma Ok Va bene Ehm Ragazzi Come abbiamo fatto A vincere Che tutti erano sopra lì Cioè Credo che tutti Cioè io li ho contati Dovrebbero Dovrebbero essere Tutti Comunque Ok Ragazzi 4% Diventare Mordor Vabbè Mordor Non ci ritornerò Mai più Però Detective 14% Ragazzi 15% Vediamo se resta 15 14 Ti prego 15 Va bene 14% Ci sta E siamo ancora Innocenti Va bene Ma ancora questa mappa No ragazzi Io non salgo più Su queste cose Perché Non mi va lo shift Non so Quindi Fa niente Lasciamo stare E poi di sicuro Di qui si prende Molto più oro Perché Se ci fate caso No ragazzi Sono salito No ragazzi Non sono salito Ragazzi Sono salito Questa cosa Non è possibile Però eh Ragazzi Dai Ma non è possibile Guardate Shift Non mi fa scendere No vabbè No vabbè Ragazzi Io non ci credo Resteremo qui Per tutta la vita Finché Il Mordor Non ucciderà tutti Oppure Sarà ucciso lui Perché c'è un puffo Buongiorno puffo Io sono riuscito A scendere Ok No ragazzi No ragazzi E lui è lui Ragazzi E lui Ragazzi E lui Ragazzi E lui Mi vuole Mi vuole Mi vuole Ragazzi Mi vuole morto Allora Una cosa carina È che E lui Ecco Ragazzi Lo sapevo che fosse lui Io capisco Quando le persone Sanno morder Va bene Facciamo l'ultima partita Che questa quinta Non dovevo farla Però la faccio Come speciale Mi raccomando ragazzi Oggi Alle 14 E 30 Inizio Una live Quindi mi raccomando Siate tutti E lo speciale Dei 32 like Che abbiamo fatto ieri Nella live Quindi veramente Ragazzi Grazie a tutti Farò una live Di 3 Barra 3 ore e mezza Quindi un botto Credo Una live Veramente Credo una delle live Più lunghe Che abbiamo fatto Quindi mi raccomando Spero che ci siate Comunque C'è la possibilità Di diventare detective Non è salita Neanche quella di morder Anche se ho fatto Una partita Da innocente Questa cosa Non mi va bene E siamo ancora Innocenti Va bene ragazzi Però questa cosa Non è possibile Cioè Siamo mordere Una volta Ogni 30 anni Ok La maledizione è scomparsa Però Siamo ancora Mordi Cioè Non siamo ancora Mai stati detective In tutta questa partita Che abbiamo fatto E questo E questo non va bene Let's die Ivi Mstar Vediamo un pochino Ivi Ok Il pollo Il pollo lì Non lo Meglio che non lo Meglio che non ci andiamo a parlare Ok Allora Andiamo a morire Va bene Ma No ragazzi è lui Ragazzi è lui Ragazzi è lui Ragazzi è lui Io lo so che è lui No Non era lui Va bene Ehm Dovrei dire GG Maiuscolo O GG Minuscolo Perché non ho fatto niente Va bene Va bene ragazzi Grazie veramente a tutti Per la visione Lasciate Un like Di supporto Oggi Alle 14 E 30 Ci sarà la live Mi raccomando ragazzi Spero che ci siate veramente In più persone possibile Eh Oh ragazzi No ragazzi Non posso finire qui Il video con detective Assolutamente Assolutamente Ok Va bene Non saliamo su quelle cose Per favore Oh mio dio ragazzi Cos'è questa cosa Ehm Ok Va bene Ok Dobbiamo capire Chi è l'assassino Di qui Non vedo nessuna spada Che potrebbe essere Ragazzi Il pinguino Il pinguino Per me è sospetto Ragazzi Il pinguino È sospetto Lo steve è sospettissimo Ragazzi Lo steve è sospettissimo Se mi segue fino a lì Lo spariamo Ok Ma scusatemi eh Allora Perché Voi Mi seguite Così Voi mi seguite Così fate Fate finta di essere assassini E Vi sparano Ma non è possibile Ciao a tutti Ciao a tutti